La Guardia di Finanza ha eseguito sequestri di beni, disponibilità finanziarie e quote societarie per 57 milioni di euro in relazione ad un'attività illecita di compravendita all'ingrosso di circa 60 milioni di litri di gasolio agricolo agevolato che veniva rivenduto a soggetti che lo utilizzavano per usi diversi da quelli oggetto dell'agevolazione. Tre le persone indagate. Una società all'ingrosso agiva tra Salerno e Taranto. Il decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Taranto su richiesta della Procura Ionica è stato eseguito dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto. Si tratta del sequestro diretto e per equivalenti di beni mobili e immobili, quote sociali e disponibilità finanziarie in relazione a diverse ipotesi di reato di natura tributaria. Le indagini condotte inizialmente anche dalla Procura di Salerno hanno riguardato l'attività di un gruppo criminale con base operativa a Taranto e ramificazioni nella provincia di Salerno che agiva attraverso una società a responsabilità limitata di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi. I reati si riferiscono agli anni 2016-2017. Le investigazioni hanno anche accertato che la maggior parte delle operazioni di compravendita per un ammontare complessivo di circa 31 milioni di euro sarebbero state regolate in contanti al fine di non consentire la tracciabilità di flussi di gasolio e l'identificazione degli acquidenti. Grazie a tutti.